Salve a tutti, questo è il mio blog ed è un po' forse scontato che il sindaco di una città faccia un blog per parlare con la gente, però io penso che questo è un momento molto importante, la nostra città in qualche modo in bilico può andare bene, può andare male, io penso che questo è un momento in cui noi possiamo accelerare tantissimo, fare di più e fare meglio, quindi c'è bisogno di parlarci, di parlarci in maniera seria, con un dialogo serrato e di confrontarci perché tante cose si stanno trasformando, non possiamo più continuare a ripetere i nuovi comuni del passato, dobbiamo inventarci cose nuove, questo blog spero che sia uno strumento per tutti voi per lavorare insieme e per costruire insieme una città migliore e la nuova Italia che abbiamo sempre sognato.